Il campionato è fermo, si ricomincerà a giocare sabato 7 gennaio, quando il Foggia sfiderà lo Zaccheria il Picerno, ma nel frattempo sembra destinato a prendersi la scena il mercato. Il club del patron Nicola Canonico sarà vigile ed è intenzionato a rinforzare la squadra con almeno quattro elementi in grado di colmare le lacune. Dal 1 gennaio le operazioni saranno possibili, ma già da giorni il direttore sportivo Pier Giuseppe Sapio si è messo al lavoro di intesa con proprietà e tecnico. Ad occhio e croce, come detto, non saranno meno di quattro le operazioni in entrata che il Foggia porterà a termine nella sessione invernale. Ovvio che occorrerà anche provvedere a mettere in lista di sbarco quegli elementi che non rientrano più nei piani o che sono fuori dal progetto tecnico. Tra entrate ed uscite, dunque, saranno più o meno una decina i movimenti. Non è un mistero che in casa rossonera si interverrà in ogni reparto, in primis in attacco, ma le operazioni riguarderanno inevitabilmente anche la difesa, dove gli uomini sono contati e Fabio Gallo, che col suo avvento ha peraltro cambiato l'assetto difensivo del Foggia in seguito alla scelta dell'ormai collaudato 352, ha dovuto inventarsi cursori come Rizio e Leo, braccetti della retroguardia.